Dopo la definizione del nuovo regolamento edilizio, prosegue la redazione da parte dell'amministrazione comunale degli strumenti di attuazione del piano urbanistico. Questo pomeriggio la terza commissione permanente dell'Assemblea Civica, preseduta da Marco Manca, ha avviato la discussione su un nuovo piano di utilizzo dei litorali. Il documento è stato illustrato dall'assessore alla pianificazione territoriale Gianni Carbini e dai tecnici della struttura comunale. Il piano di utilizzo dei litorali, PUL, disciplina la fruizione con finalità turistico-ricreative delle aree demaniali marittime e l'organizzazione dei litorali. Nel territorio di Sassari ricadono 44 chilometri di costa, prevalentemente rocciosa. Sono però presenti alcune spiagge, Plattamona, Fiume Santo, Rena Maiore, Argentiera e Portoferro, oltre a Porto Palmas. Il PUL prende in considerazione sei zone per la classificazione cartografica, con 120 tavole che mappano il territorio. Grazie all'adozione del PUL le amministrazioni comunali potranno rilasciare nuove concessioni demaniali. Nel territorio di Sassari attualmente ci sono quattro concessioni che scadranno nel 2020. Con il PUL arriveranno a 11 e avranno una durata ventennale. Due invece le parti di litorale nelle quali potranno essere portati gli animali domestici con la conferma della spiaggia di Fiume Santo. Dopo l'approvazione del piano da parte dell'Assemblea Civica scatteranno i 60 giorni per le osservazioni, ma l'ITER comprende anche i pareri di 36 enti che dovranno rilasciare nulla osta previsti dalla legge. Già definito invece il passaggio con l'amministrazione provinciale per la VAS. Tra le novità previste nel PUL ci sono anche le vie del mare con l'obiettivo di sviluppare in ogni caletta dei pontili di ormeggio stagionali. Già calendarizzati i lavori della Commissione Urbanistica con l'analisi del piano particolareggiato del centro storico prevista per la prossima settimana. Poi entrambi i documenti saranno votati al Consiglio Comunale.